Daniele Sobrero oggi allo stadio di San Cassiano ad Alba a rappresentare la nuova amministrazione comunale in occasione della seconda giornata della Coppa Rivista Idea, un'autentica festa del calcio giovanile è un piacere vedere oltre 200 calciatori in erba a calcare questo prato e soprattutto divertirsi Sicuramente sì, è una grandissima soddisfazione perché dobbiamo partire dal presupposto che questo è formato da tutto un gruppo di volontari che questa è la cosa principale, quindi Alba ha tantissime di queste associazioni in diversi campi, in diversi settori sicuramente quando parliamo di sport e soprattutto di sport giovanile penso che deve essere veramente una grande soddisfazione Queste associazioni come dicevo sono un po' il fiore all'occhiello della città di Alba e sicuramente l'amministrazione comunale sarà molto sensibile, molto vicina a tutti i tipi di queste manifestazioni questa qua in particolare è alla quinta edizione, io le ho vissute e l'organizzazione ogni anno aumenta l'asticella veramente a un grande livello e ho sentito anche in tribuna le persone, addirittura c'era ospite anche il Torino Calcio quindi avere i complimenti da società importanti così è un onore per la nostra città